Lo sviluppo economico di un territorio passa certamente attraverso infrastrutture adeguate, trasporti adeguati. Se consideriamo l'area di Taranto è provincia, proprio così non è. Potremmo parlare di collegamenti ferroviari, collegamenti stradali, di aeroporto. Insomma siamo la Cenerentola, la sorellina povera della Puglia, quanto a infrastrutture e a trasporti. Ne parliamo con il dottor Antonio Tramonte che è candidato al Consiglio regionale pugliese con la Lega. Sì, come dice lei siamo la Cenerentola povera, non con una scarpa ma senza entrambe le scarpe praticamente. No, una viabilità, siamo benissimo, l'autostrada, la 14, ovviamente termina la massafra, ovviamente creando caos e un ingorgo anche su questo tratto, che dal punto di vista ambientale non è il massimo. Per non dire per quello che è la tratta ferroviaria. Taranto è praticamente esclusa dall'alta velocità, vengono fatte promesse al momento sull'alta velocità, ma in realtà l'alta velocità, a parte da Bari, potrebbe arrivare a Lecce, ma Taranto ne rimane comunque sia isolata e fuori. Questo ovviamente con gravi ripercussioni. Ricordo rispetto a 20 anni fa, se partire da Bari e arrivare a Taranto, ovviamente se prendiamo un regionale ci si impiegava un'ora e cinquanta. Adesso forse siamo migliorati di 30 minuti, di 20 minuti, non lo so, ma la situazione non è che sia molto cambiata. E poi c'è il grosso problema dell'aeroporto sì, aeroporto no. Per i voli civili ovviamente. Per i voli civili, per i voli civili. Ovviamente anche quella è una cosa importante perché avrebbe un ritorno non solamente per quelli che sono gli scambi commerciali, ma anche gli scambi di turisti, insomma. Nel momento in cui viene interrotta o è assente una rotta così importante in presenza ovviamente di un aeroporto, perché c'è un aeroporto, fisicamente esiste un aeroporto, ovviamente anche le stesse agenzie viaggi, quelli che sono, optano per province o località più vicinanza di un aeroporto rispetto a una che è situata a 60-70 chilometri. Questo ovviamente per questione di praticità. Il discorso è che sono strutture esistenti sul territorio. A Grottaglie si parla ovviamente di questi aeroporti da anni. Mi ricordo che fosse un terzo aperto seriamente, sarà stato agli anni 70, se non erro, 77-78, mi ricordo questo aeroporto di Grottaglie che funzionava alla grande, era un bambino, però ho questa immagine vivida di questo aeroporto. Purtroppo non va, non va e si spera che ovviamente si possa investire anche questo, che ci siano linee aeree che portino turismo a Taranto. In modo tale che si possa svincolare anche che Taranto non è solamente la città dei veleni. Taranto è una città bellissima, è compito e ruolo anche di ogni singolo cittadino, fa comprendere in continuazione che Taranto non è solamente l'Ilva, Taranto non è la morte, Taranto è civiltà, Taranto è cultura, Taranto è una città straordinaria. e bisogna curarla.